Il grande volley a Parma, un binomio che non tradisce. A testimoniarlo mercoledì 29 giugno, per Italia-Cuba, tappa della prima fase della World League, un glorioso palaraschi, stracolmo in ogni ordine di posto, e anche di più, come non si vedeva da tanto, troppo tempo, in un contesto con qualche tinta nostalgica, dove si sono mixati ottimamente colori e tifo, proteste e corri da stadio, gesti atletici e ritmi caraibici, fino anche alle rivoluzioni. Queste ultime però, solo tecnico-tattiche per le due formazioni in campo. Il pubblico, sfidando un caldo asfissiante, trasformatosi poi in una rinfrescante tempesta, in un clima atmosferico degno della migliore spiaggia cubana, ha fatto sentire il suo ulteriore calore al ritorno della pallavolo che conta in città, nell'ennesimo evento importante di Parma Città Europea dello Sport 2011. L'Italia che torna a Parma, ad un anno di distanza, stavolta per la sua undicesima partita di questa World League, ha un volto decisamente diverso, ringiovanita e rinnovata sia nel gruppo che nello spirito, con tanta esperienza accumulata proprio al palaraschi, a cominciare dal CT, Mauro Berruto, e dal suo vice, Andrea Brogioni, rispettivamente tecnico e palleggiatore dell'UniMade nel 2003-2004, ultimo anno parmense della pallavolo maschile in A1. Oltre al loro primo assistente, Andrea Giangio Gianni, per 11 anni giocatore universale con i marchi Santal, Maxi Kono e Cari Parma. Il palazzetto, che compagna le noti degli lini nazionali, si scalda subito per il match aperto dalla battuta vincente del regista Dragan Traviza, figlio di quegli Ubo visto sulla panchina del rientrante main sponsor Maxi Kono nel 2001-2002, e che dà inizio a quello che sarà un assolo degli azzurri, per la decima vittoria in 11 partite del gruppo D, ampiamente proiettati alla fase finale di Danzica in Polonia dal 6 al 10 luglio. Se i primi due set filano via abbastanza lisci, 25-21 e 25-22 ai parziali a favore di Savani e Soci, in realtà il 3-0 finale non deve trarre troppi in inganno, perché nel terzo set l'orgoglio cubano si mostra in tutta la sua interezza, annullando 7 match ball, 32-30 con l'out dell'opposto mancino Danny Hernandez, e riportando alla memoria la celeberrima finale ridata del 1990, quando a Rio de Janeiro l'immortale Joe de Spain, detto il Diablo di Cuba, respinse praticamente da solo 8 lunghissimi attacchi italiani, prima di cedere alla generazione di fenomeni guidata da Giulio Velasco. Ma quelli erano altri tempi, che il popolo del volley però spera di rivivere presto, confidando in questa nuova Italia, passata e cresciuta anche qui da Parma. Siamo qua alla fine del primo set, che l'Italia ha vinto 25-21, un palazzetto esaurito, cosa bisogna aggiungere? Beh, bisogna aggiungere che ci vorrebbe una bella vittoria stasera, per così rendere fantastica una serata che è già meravigliosa, per vedere così, perché vede due squadre fortissime che si giocano la qualificazione, l'Italia è già qualificata alle fasi finali del World League, Cuba no, però l'Italia vuole vincere il girone, quindi sarebbe bellissimo così completare la serata con una qualificazione nostra al primo posto del girone, quindi la nostra soddisfazione è quella di aver comunque riempito il palazzetto come non si vedeva da tempo. Uno spettacolo ma anche tanta nostalgia, come dicevi tu, anche pensando che questo palazzetto probabilmente non vedrà più la pallavolo, ma non lo so, è in previsione la realizzazione di un palazzetto nuovo, è giusto averlo, il palazzetto nuovo, credo, anche se Palaraschi resta sempre un monumento storico della pallavolo, però come tutte le cose della vita bisogna rinnovarsi e credo che noi, che Parma, una città importante, si meriti anche un palazzetto dello sport importante. Carlo Magri, presidente della Federvolley, siamo sul 2-0, siamo sul 2-0, un palazzetto pieno, a Parma è tornata la grande pallavolo. Intanto un annuncio, col secondo set l'Italia in ogni caso un punto ce l'ha e resta prima nel girone e questa è già una cosa in via definitiva, questa è una cosa molto importante. Poi la serata è molto bella, d'altronde era prevedibile che ci fosse il tutto esaurito, perché è una consuetudine ormai in tutte le città dove va la nazionale, e perciò siamo tutti molto contenti. Una rivoluzione a tutti gli effetti che sta dando già fino adesso dei grandi frutti. Ma sta dando dei risultati, ma più che altro si nota uno spirito molto aggressivo, molto giovanile direi anche, una bella iniezione per il nostro sport che sta attraversando un momento molto bello. Claudio Galli, voce tecnica di Sport Italia per la pallavolo, un palazzetto qua a Parma bello pieno come hai i tuoi tempi. Sì, è un'emozione vedere una squadra italiana trasmettere tanto entusiasmo e far partecipare così bene un pubblico numeroso come effettivamente non si vedeva per la pallavolo da tantissimo tempo. Sono belle sensazioni quelle che ci trasmette questa squadra, anche se l'avversario ovviamente non è dei massimi livelli, però devo dire che l'atteggiamento che hanno in campo, che è fuori dal capo a questi ragazzi, è veramente di quelli positivi. Tu non sei stato uno dei premiati della Sant'Al prima della partita, però hai scritto pagina importante con la Maxi Cono. Qualche anno dopo a vedere il palazzetto pieno ti vengono ricordi nostalgici? Ma no, sono contento. Ovviamente mi viene in mente quando si riempiva per sfide non della nazionale ai tempi, però vederlo per una partita dell'Italia e vedere così tanto entusiasmo è veramente commovente in un momento in cui la pallavolo maschile, a parte il club a livello di nazionale, non aveva ottenuto grossi risultati. C'è stato un grosso ricambio giustamente in vista delle Olimpiadi nella Rosa, nel roster della squadra e si vede effettivamente che c'è un'aria nuova. Giangio Gianni, senza bisogno di presentazioni, torni a Parma con la nazionale in una partita che comunque non aveva bisogno di troppe presentazioni. No, era una partita importante perché giocavamo contro una squadra arrivata a seconda al mondiale davanti a lui nel ranking, una squadra che è cresciuta come noi in tutta la World League, le ultime partite prima della Final 8, per cui era un test decisivo secondo me, per noi, per la nostra forza. È stata una partita importante, 3-0, l'ultimo sette vantaggi dove abbiamo fatto qualche errore, però la squadra è rimasta molto tranquilla. I giocatori secondo me in questo momento hanno grande sicurezza e stima dei compagni che hanno vicino, per cui si divertono, facciamo divertire pubblico e piano piano i risultati vengono. In questa nazionale che gioca a Parma, dopo un altro anno dall'anno scorso con la tappa con la Francia, c'è tanta Parma in questa Italia, tu, Brogioni, il coach, altri giocatori, il figlio di Travizza, giusto? Ma sai, credo che intanto bisogna guardare questa squadra come una squadra dal volto nuovo, no? Anche stasera abbiamo fatto esordire un altro ragazzo, Depandi, si libero. Abbiamo bisogno, la nostra pallavola probabilmente ha bisogno di forze nuove, di trovare secondo me un gruppo di giocatori che non sia legato al vecchio sistema di pallavolo. Siamo partiti tenendo molto umili, sapendo che il lavoro che dobbiamo fare e che dobbiamo fare è ancora molto grande. Però giochiamo di squadra, abbiamo delle grandi doti fisiche, dobbiamo ancora migliorare sulla tecnica, sulla tattica, però giochiamo di squadra. Anche stasera, ha detto, nei momenti in cui non abbiamo fatto qualche errore di troppo, i ragazzi sono sempre rimasti tranquilli in campo. Ci sono stati cambi, chi è entrato ha dato un grandissimo contributo e ci siamo riconquistati in finale di sette, è importante. Sarà un bel banco di prova in Polonia? Sarà un banco di prova perché incontriamo ancora squadre più forti e secondo me una squadra cresce quando incontra sempre le più grandi. Cioè noi davanti a noi in questo momento abbiamo diverse squadre e con loro ci confronteremo. Tornando invece al palazzetto, Stracolmo, come ai tuoi tempi, un pizzico di nostalgia? Ma no, nostalgia no, nel senso che se fossi ancora in carriera, cioè ancora da giocatore sì, ma ormai ho smesso da diversi anni. Mi fa piacere di vedere così tanto entusiasmo in una città che in questo momento sta vivendo la pallavolo femminile e non più quella maschile. Manca la pallavolo di alto livello maschile da tanti anni. Però io credo che questa città ha voglia e bisogno di avere una squadra al vertice nella pallavolo maschile. Piano piano, speriamo che una volta che si sia sistemata l'amministrazione e tutti i suoi problemi si possa tornare a creare un progetto. Michalasco, con che spirito andiamo alla World League in Polonia dopo aver messo in archivio questa fase eliminatore? Noi in Polonia ci andiamo per far bene. La mentalità nostra, come già ripetiamo da un paio di mesi a questa parte, è cercare di scontrarci con chi sul ranking è più forte di noi. Finalmente ce lo siamo meritati sul campo andandocelo a prendere. Adesso siamo curiosi di sapere a che livello siamo arrivati. Sicuramente la grinta, il coraggio, la voglia di fare non ci manca. Poi vediamo. L'anno scorso Cuba ai mondiali ci aveva massacrato, quest'anno invece è capitato il contrario. Guarda, ci sono tanti discorsi diversi da fare. È anche vero che loro non hanno qualche giocatore. Noi siamo un'Italia completamente diversa, un'Italia che comunque guarda al presente. Non fa... Cioè troppe volte leggo il confronto col passato che sinceramente non ce ne frega niente. Noi siamo questi qua per adesso. Giochiamo, ci divertiamo, va bene così. E vinciamo. Dragan Travica, figlio di Lyubov, allenatore già della Maxi Kono, che effetto ti fa tornare a Parma? Ma è un bel effetto sicuramente più che altro per mio papà che qua ha passato begli anni. Io ero piccolino e dagli spalti ti favo per lui. Ho trovato nessuna novità nel senso che gli spalti erano pieni come allora ed è sempre una bellissima realtà venire qui. A parte un po' il caldo, però ci siamo anche un po' abituati forse in questi giorni. Direi che è andato tutto bene, dal risultato all'atmosfera. Credo che oggi era difficile mettere il punto esclamativo sulla vittoria perché eravamo già qualificati. Loro avevano da giocarsi qualcosa in più mentre noi un po' di meno invece dovevamo mettere quel qualcosa in più per dimostrare di essere solo più forti. Ed era forse la cosa più difficile ma ci siamo riusciti ed è un segnale molto bello. Tu sei palleggiatore dell'Italia, di questa nuova Italia e come vedi questa nuova formazione anche in vista della World League in Polonia? Ma la vedo bene. Credo che siamo arrivati a un punto per poter dire ok, adesso non vediamo l'ora di giocarcela. Abbiamo lavorato per quel poco che c'era di disponibile, abbiamo lavorato molto intensamente. Credo che abbiamo costruito un'identità di gioco e abbiamo molta voglia e grande desiderio di giocare contro le squadre più forti. Mauro Beruto con un passato all'UniMade a Parma nel 2003-2004 che ricordi ha per questo palazzetto? Io ho fatto un piccolo percorso, una sola stagione in una città che ha segnato la storia di questo sport in maniera indelebile quindi sono stato molto onorato di far parte di quel progetto purtroppo è un progetto che è durato meno di quello che si pensava nonostante fosse partito bene non fosse partito con buone premesse sono felice comunque che Parma abbia ritrovato la Serie A1 con la sua squadra femminile perché la pallavolo è una nel maschile e nel femminile non c'è differenza e credo che guardare sulle tribune questa sera ce l'abbia dimostrato noi facciamo parte di un movimento che è fantastico che è splendido ed è veramente un onore essere riusciti a regalare anche a questo pubblico una bella soddisfazione, una bella partita Venendo dall'attualità probabilmente questo palazzetto verrà demolito però ha dato comunque un contributo a una nuova Italia che va verso la World League con quali auspici? Prima di demolire i palazzetti io mi auguro sempre che se ne facciano di nuovi perché i palazzetti dello sport sono come le biblioteche o i musei prima di demolirli bisogna pensarci bene e bisogna averne di migliori quindi è ovvio che mi auguro che Parma che ha una tradizione sportiva anche extra pallavolistica di primissimo livello difenda il suo patrimonio e naturalmente difenda la sua storia che si è scritta in questo palazzetto almeno per ciò che riguarda la pallavolo per il resto ripeto è sempre entusiasmante siamo alla undicesima partita giocata quando abbiamo giocato in Italia è stato veramente sempre entusiasmante questa è stata un'altra bellissima serata sono davvero felice Andiamo in Polonia con quali obiettivi? Di affacciarci dall'altra parte della rete vedere le maglie del Brasile vedere le maglie della Russia vedere le maglie di quelle squadre perché negli ultimi anni sono salite sui podi sui podi delle manifestazioni più importanti la nazionale italiana è da tanto tempo che guarda da sotto il podio delle squadre avversarie io non so dove arriveremo ma sicuramente vogliamo arrivare prima di tutto a questo confronto perché questo confronto è quello che ci dirà qualcosa di più sulla nostra squadra Assessore ci troviamo qua con il palazzetto che si sta svuotando ma prima qualche ora fa era pieno in ogni ordine di posto è una bella partita il volley giocato a questi livelli è veramente straordinario anche se devo dire che vedendolo dal vivo lo trovo cambiato dai miei tempi un gioco oggi fatto di potenza di forza di grande fisicità però forse è diventato ancora più bello ancora più interessante di interessante e di più bello c'è che il pubblico di Parma c'è che Parma Sportiva tiene alla sua pallavolo e sono convinto che quest'anno nella squadra femminile troverà parecchie soddisfazioni ho visto che si invoca la maschile io penso che quest'anno stare vicini alla femminile possa portare anche a qualche gioia certamente ci vorrà del tempo ma la pallavolo non dimentichiamoci che l'80% dei praticanti oggi sono ragazze un palazzetto comunque pieno che ha ricordato i tempi appunto che diceva lei prima sì un palazzetto stracolmo ti dà gioia la premiazione della Sant'A la premiazione di Ferramola 88 no 88 sì la premia Sant'A dell'81 ma Ferramola classe 1923 quindi 88 anni campione d'Italia nel 52 sono cose che danno il sapore a questo a questo percorso di Parma Città Europea dello Sport nella nostra memoria nel Ferramola nello scudetto della Sant'A c'è il nostro oggi bisogna coltivare questi esempi coltivare questi ricordi ma avere anche presente che dobbiamo dare ai nostri ragazzi qualche cosa che possa essere veramente di esempio per il loro percorso nello sport e nella vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.